Il Partito Democratico pugliese va in controtendenza e riserva la vittoria ai punti a Stefano Bonaccini con il 55% di preferenze contro il 44% dell'onorevole e sua ex vice. In compenso, il dato non serve a fermare la Slavina, che vede già poco dopo le 23 la telefonata di congratulazioni tra il governatore dell'Emilia Romagna e dell'Ischlein, prima donna alla guida dei Dem sulla poltrona più alta del Nazareno. I numeri sono in primis quelli degli 82.000 votanti, superando entrambe le soglie fissate da Domenico De Santis, da segretario in pectore, come asticella di allerta per la partecipazione in una forbice compresa inizialmente tra i 65 e gli 80.000 alle urne. Bonaccini vince a Bari e Foggia, nella Bat e nell'Eccesa, con uno scarto di soli 200 voti arrivati dalla provincia, lasciando Taranto e Brindisi alla mozione vincitrice sul fronte nazionale. Dalla parte del presidente Emiliano c'erano tanto il governatore pugliese Michele Emiliano quanto il sindaco di Bari Antonio De Caro, uomini forti del partito. Dall'altra la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, ma anche l'ex ministro per gli affari regionali Francesco Boccio, soltanto a citarne alcuni. E ora il resto è tutto da costruire, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali di Bari 2023 e delle regionali a seguire.